Qua c'è stagione che è finita ormai da un paio di settimane, però voi come amicaccia Abruzzo già siete al lavoro per programmare la nuova stagione sportiva. Sì, come hai detto tu, il campionato è finito un mesetto fa, più di ventina di giorni fa, con la Coppa Europa, avremmo voluto fare qualche risultato in più, però è andato molto bene. Adesso, insieme al presidente e al coach Carlo Di Giusto, stiamo al lavoro già a vedere alcuni giocatori per rinforzare il nostro roster e per iniziare bene l'anno prossimo. Qua c'è intanto la notizia più importante che ci sarà un girone unico il prossimo anno, la serie di basket in carrozzina, quindi per forza di cose il roster dovrà essere molto competitivo. Sì, il girone unico ci va veramente piacere perché dopo tanti anni torniamo a essere un campionato di livello perché parliamoci chiaro quando è stato due gironi, purtroppo due o tre squadre forti in un girone e in un altro girone un paio, il campionato è corto, giocavamo a Singhiozzi perché giocavamo una partita, si fermavamo un paio di settimane, il girone unico sicuramente sarà più lungo il campionato, sarà più competitivo perché giocheremo tutti contro tutti e lì ci vorrà un bel roster lungo e competitivo perché dobbiamo giocare contro tutti quanti. Ecco, per vedere i primi giocatori firmati si dovrà aspettare ancora un po'. Sì, per adesso non posso svelare niente perché siamo ancora al lavoro, sicuramente ci saranno delle conferme, ci saranno delle novità, a breve speriamo di riuscirci con le notizie.